Mortets, AVB Família, Anestec Crew, Now! Timmy, dov'è Lessie? È fuori nel frutteto, mamma. Le pesche stanno maturando un po' prima quest'anno. Fumate. Sai come si dice, Timmy? Pesche in anticipo è stata lunga. Fumate. Che cosa c'è, Lessie? Non state ancora fumando? Dax, Dax! 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 Guarda tutto, sento tutto Grazie per la visione!